salve amici siamo i giocatori per caso facciamo l'incarico ribellione di oggi trasmetti i dati al drone ed è una cosa velocissima ma iscrivetevi al nostro canale che stiamo mettendo tutti gli incarichi che ci sono più video divertenti ogni giorno per fare questo incarico dobbiamo andare in uno degli avamposti dei set e potete andare in quello che preferite ce ne sono tanti allora io sono andato in quello nell'isoletta dietro alla statua gigante con la statua che adesso è rotta per via delle vibrazioni che ci sono state quindi atterrate in questo caso è proprio di fronte alla statua guardate lì in fronte di fronte a me c'è la statua adesso ve la mostro bene vedete e qui c'è il selettore dove prendere l'incarico adesso l'incarico commuta e dice trasmetti i dati al drone noi abbiamo rubato dei dati dirigibili dobbiamo trasmetterli ma dove si trovano lo faccio vedere da lontano qua è sempre lo stesso posto e non sono andato da nessuna parte dovete semplicemente salire sul tetto e guardatelo qua il drone è questo sempre la statua lì di fronte non sono non ho cambiato posto mi sono solo allontanato per mostrarvelo meglio comunque dovete salire sul tetto questa sfida la fate veramente in pochi secondi bene spero di esservi stato utile alla prossima se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche grazie a tutti grazie a tutti